Professor Boeri, sul tappeto ci sono queste altre cose, come vede la genesi del governo Letta? Scritto e stabilito che la priorità deve essere sul lavoro, io mi auguro che si sia conseguenti con questa priorità, il che significa che tutte le risorse disponibili devono essere concentrate oggi per cercare di creare nuove opportunità di impiego, d'altra parte con 6 milioni di persone tra disoccupati e lavoratori cosiddetti scoraggiati, cioè persone che hanno smesso di cercare lavoro perché pensano che non ci siano delle opportunità per loro, non si può che cercare di fare qualcosa per ridurre la disoccupazione, che è anche il modo centrale per affrontare i problemi della povertà che venivano anche menzionati prima da Fiammoni, questo è il tema cruciale, per cui certamente non ci sono risorse per fare altre cose, per esempio restituire l'Imu o abolire completamente la tassa sulla prima casa, cosa che saremmo l'unico paese nell'area Occia a non avere una tassa sulla casa, mi sembra che le risorse non ci siano per queste cose, quindi davvero ci vuole un'attenzione alle priorità e un'altra cosa è che non possiamo pensare di fronteggiare queste emergenze economiche e sociali con misure tampone, certo bisogna affrontare i problemi della cassa inderoga che alcune regioni non riescono più a pagare, bisogna affrontare il problema dei lavoratori esodati, bisogna fare qualcosa per i precari dell'Occia, la pubblica amministrazione, ma il problema è davvero fare molto di più, cioè qui bisogna invertire e impedire che si avvii una nuova spirale recessiva in Italia e oggi il rischio c'è e sarebbe davvero molto grave. Professor Boeri, come si fa a far ripartire il mercato interno, come diceva Fiammoni? La prima cosa, io credo che noi dobbiamo cercare di intercettare il mercato estero, è molto importante, perché altrove ci sono aree che stanno crescendo e se noi riusciamo a intercettare questa domanda alimenteremo più esportazioni. Ma anche con una struttura dei costi del lavoro che è assolutamente poco competitiva con altri paesi. Certamente, per questo bisogna ridurre l'imposizione fiscale sul lavoro. Comunque l'Europa è a due velocità chiaramente, abbiamo Germania e Gran Bretagna che stanno ripartendo bene, mentre abbiamo tutta la parte del sud che invece è in grande difficoltà. E quindi noi dobbiamo assolutamente cercare di intercettare la domanda che viene da fuori. Questa è la priorità numero uno. Poi certamente bisogna fare aumentare i consumi interni e per farli aumentare io credo che anche qui bisogna comunque agire sul lavoro e soprattutto sulle retribuzioni più basse. Non possiamo fare grandissimi interventi, qui continuo a sentire elencare tante cose da fare, eccetera, ma le risorse a disposizione sono davvero minime. Quindi si può fare un intervento circoscritto ai salari più bassi, una specie di sussidio di occupazione anziché di disoccupazione che faccia valere di più il salario a chi lavora con retribuzioni relativamente basse. Meglio se accompagnato dall'introduzione di un salario minimo che eviti che questi soldi finiscano tutti in tasca al datore di lavoro e non finisca nulla in tasca al lavoratore. Ecco, una misura che è stata adottata in Germania e che è stata di grande aiuto durante la grande recessione. Però appunto bisogna fare delle scelte concrete, non si può fare tutto perché i soldi per tutto non ci sono. Professor Boeri, l'ha detto ieri anche Letta, di fronte all'Europa bisogna chiedere anche un patto per la crescita, non soltanto il patto di disciplina fiscale. L'Europa ci ascolterà oppure prevarranno ancora una volta i falchi tedeschi? Il numero uno della Bundesbank ci ha messo del suo e anche il ministro delle finanze di Berlino, Schäuble, ha detto che è inutile che vi lamentate, lavorate e olio di gomito. Io credo che la situazione a livello europeo stia evolvendo e soprattutto ci saranno nuovi cambiamenti dopo le elezioni tedesche in autunno. Al tempo stesso però non dobbiamo pensare che adesso è tornato il momento della spesa facile in cui i vincoli di bilancio si sono allentati. Le tensioni sui mercati sono sempre molto forti, anche se lo spread ci ha dato una tregua. Rendiamoci conto che nel momento in cui dovessero peggiorare alcune situazioni anche esterne avremo delle ripercussioni molto negative anche sul costo del nostro debito pubblico. Per cui bisogna assolutamente continuare con le operazioni di contenimento della spesa e con davvero una revisione della spesa pubblica, soprattutto della spesa locale che è stata solo iniziata con il governo Monti. Ci sono tantissimi sprechi che vanno assolutamente affrontati. Al tempo stesso bisogna invece fare un'operazione di aggiustamento del nostro gettito fiscale facendo sì che le tasse gravino meno sul lavoro. Questa è davvero l'operazione centrale da fare in questo momento. Servirebbe anche ad aumentare i consumi, soprattutto se concentriamo la riduzione delle tasse sui redditi più bassi, perché le persone con un reddito più basso hanno una propensione al consumo che è quasi il doppio di quella delle altre fasce di reddito. Boeri, quanto si può legare la vita di questo governo al rischio del nostro paese? Le banche d'affari dicono che i tassi di interesse dei nostri diritti di Stato calano con una coalizione tra PD e PDL. Oggi il Financial Times ha detto che il governo Letta avrà necessariamente vita breve perché Berlusconi è un partner inaffidabile e anche nello stesso Partito Democratico ognuno va un po' dove gli pare. Guarda, è molto difficile giudicare qual è stato l'effetto della crisi politica sullo spread e sulle percezioni dei mercati. Eravamo in una fase comunque in cui c'era stato un certo rasserenamento sui mercati. E su questo possiamo anche vedere la grafica forse. Sì, comunque appena c'è stata la crisi di Cipro il nostro spread è risalito di quasi 100 punti, quindi è una situazione di grande vulnerabilità. Io credo che comunque la coda più importante è che la crisi politica fa male all'economia, cioè questo è proprio dimostrato. Quello che succede in questi casi è che quando c'è una situazione di non chiarezza su come evolve la crisi politica, le imprese smettono di fare investimenti, smettono di assumere, le famiglie rimandano a piene di spese e questo si ripercuote sull'andamento dell'economia. Tanto si è parlato spesso del caso del Belgio come di un paese che è riuscito per due anni a farcela senza un governo. In realtà abbiamo dimostrato sulla voce che il Belgio sarebbe cresciuto molto di più se avesse avuto un governo. E comunque la situazione del Belgio non è comparabile alla nostra perché il Belgio ha comunque dei governi a livello locale che funzionano molto meglio delle nostre regioni. Quindi diciamo che il problema dell'instabilità politica è il problema sull'economia, su come va il nostro PIL e non possiamo davvero permettercelo perché ricordiamoci tutti che da quando è iniziata la crisi il reddito nazionale italiano si è assottigliato di circa il 10%. Abbiamo perso quindi un decimo del nostro reddito in questa crisi lunghissima e interminabile. Non possiamo permetterci di perdere altro terreno rispetto agli altri paesi.